La chitarra, le voci, la strada, il deserto, le luci, città. Fabio Banfo, il racconto degli anni di Piombo, visti attraverso gli occhi di un personaggio bianco tra Dostoevsky e Forrest Gump, un personaggio che ha un nome particolarissimo, Abele. Sì, abbiamo con la compagnia Eco di Fondo, con cui abbiamo fatto la coproduzione con il centro teatrale Mamimò, abbiamo pensato di partire proprio da questi due fratelli, Caino e Abele, perché un po' è la poetica della compagnia Eco di Fondo quella di mettere sempre un mito dentro i loro spettacoli, come simbolo, come metafora anche portatrice di senso. Chiaramente parlando degli anni di Piombo parliamo di anni dove ci si è scannati e ammazzati tra fratelli, tra persone dello stesso paese, l'ideologia ha avuto le sue manifestazioni più crudeli e perverse e quindi ci piaceva ritornare a questo mito biblico dei due fratelli, quello buono e quello cattivo, lavorando anche sul concetto che poi alla fine chissà davvero che cosa è il bene, che cosa è il male, chi è il buono, chi è il cattivo, a volte è solo questione di guardare la cosa da un'altra prospettiva e sicuramente questo è importante anche per ripensare a quegli anni. Raccontare un microcosmo, la vita di questo paesino, di provincia, patria, per arrivare poi a raccontare la biografia di una nazione e gli anni così difficili che ha vissuto. Questo è stato uno dei grandi snodi per la lavorazione di questo spettacolo perché l'abbiamo lavorato insieme, l'ideazione è mia, di Giacomo Ferraù e di Giulia Viana, abbiamo insieme concepito la struttura del testo e uno dei grandi momenti di svolta è stato quando abbiamo, perché all'inizio pensavamo che Abele potesse viaggiare per l'Italia alla ricerca del fratello e poi c'è stata questa grande intuizione di farlo rimanere prigioniero di questo paese e di chiamare questo paese patria creando questa scatola, questa sorta di matrioska per cui c'è il piccolo e c'è il grande e nel paesino patria far accadere tutte le cose che accadevano nel paese reale, nel paese Italia. Quel microcosmo che è un macrocosmo e che tutti quelli che hanno vissuto in un piccolo paese possono conoscere. Quindi sì, quella è stata una svolta e per noi ha molto significato il fatto che lui provi continuamente ad andare alla stazione e cercare di prendere quel treno e non riuscire a prenderlo mai perché tutte queste bombe che sono esplose, questi attentati terroristici, la morte di Aldomoro, l'omicidio di Aldomoro sono stati momenti in cui l'Italia non è riuscita a prendere un treno, momenti in cui poteva cambiare la storia di questo paese e chi ha messo quelle bombe voleva che questa storia non cambiasse.